qui invece siamo in un aspetto di habitat 6210 quindi un prato arido è sicuramente dominante bromus erectus come graminacea si presenta con un aspetto più arido quindi con anche tanto suolo scoperto a volte ci sono queste piccole croste anche di presenza di muschi ok e alcune specie che appunto caratterizzano questo habitat che fa vedere che è più diciamo che più arido per esempio questa onobrichis bici foglia il gallium qui è il gallium verum questo giallo c'è molto timo il timo potrebbe essere oenipontanus ma bisogna raccoglierlo perché i timi sono sempre un po diciamo ostici c'è sempre il nostro leucantemum vulgare e anche la graminacea che prima non riuscivo a farvi vedere bene forse adesso qua si vede un po meglio no vediamo se questa brizza sta brizza media che è molto carina non è particolarmente ricco di orchidee quindi questo non sarebbe un 62 10 asterica asteriscato abbiamo ancora del no in questo caso lotus cornicolatus scusate poi abbiamo questo è il frutto con le foglie basali che non si vedono tanto perché molto coperto della sanguisorba minor abbiamo comunque delle quercette che stanno colonizzando e dalla consistenza sembrerebbe cerro quercus cerris nella consistenza della foglia abbiamo antillis vulneraria questa è una cespetto di rosa una rosellina quindi comunque ad indicare che un aspetto più arido rispetto a 65 10 questo è una onobrichis no non lo so questa non si capisce solo con le foglie c'è della clausia clausia drimea questa e poi va bene anche qui una serie di piante che potete vedere nella composizione specifica di riferimento comunque ecco non abbiamo dubbi che questo habitat sia un 62 10 quindi un brometo è qui ancora il bromus erectus un pochino di arenaterum c'è anche qua ma diciamo è in con coperture minori rispetto al bromo e poi le altre piante che ho detto indicano una situazione molto molto più arida e non abbiamo appunto dubbi a distinguerlo dal 65 10 dove invece a renaterum domina è proprio un prato da sfalcio